L'appuntamento carissimi prosegue in grande stile, io sono ospite di Roberto Terranova, mi trovo nella concessionaria progetto di Corso Unione Sovietica 141 dove c'è tutta la gamma in pronta consegna a vostra completa disposizione. Il mio benvenuto va naturalmente a lui, volto storico di questa azienda. Buongiorno Roberto. Buongiorno Sonia, un bel ritrovato a tutti quanti. Dicevamo tutta la gamma in pronta consegna, Fiat, Abarth, Lancia, Professional con delle ottime appetitose offerte soprattutto perché è un periodo natalizio e allora forse per aiutare nei regali di Natale la concessionaria progetto ci mette del suo. Assolutamente, come dico sempre la progetto ci mette del suo, quindi degli sconti pazzeschi volti proprio a farvi risparmiare un sacco di soldini in questo periodo di Natale. Quindi abbiamo il bonus famiglia, quindi un incentivo molto forte da parte della casa automobilistica, quindi FCA. In più, il progetto, come dicevo prima, ci mette del suo, quindi vi fa risparmiare davvero tanti soldini. Pensate che la Panda la potrete portare via a partire da 7.950 euro. Ypsilon da partire da 8.950 euro, vetture nuove in pronta consegna da immatricolare. Quindi se voleste farvi il regalo di Natale siete in tempo e siete nel posto giusto. Qui in corzione sovietica 141 barra A. Ricordo anche che siamo professional, quindi mancano pochi giorni alla fine dell'anno per poter scaricare fino al 140%. Abbiamo tutta la gamma Fiat Professional in pronta consegna con dei prezzi veramente unici ed esclusivi. C'è questo fantastico fullback, quindi la versione cross. Venite a scoprire il prezzo perché veramente mi vergogno quasi di dirlo in televisione. Ma io so che le sorprese non finiscono qui, ne ha dette già abbastanza, perché c'è un altro regalo. Assolutamente sì, quindi per tutti gli acquirenti, quindi per tutti i clienti che verranno ad acquistare un'automobile daremo in omaggio una fantastica macchinetta del caffè. Quindi per fare appunto il caffè a casa con le capsule, con le cialde e via dicendo. Quindi venite qui in corzione sovietica che indipendentemente dall'acquisto che voi decidiate di fare avrete in omaggio una macchinetta del caffè. Bene, il caffè è molto buono, io l'ho assaggiato, ve lo garantisco, ma gli affari si fanno anche nel mondo dell'usato e delle vetture aziendali, chilometri zero, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti? Assolutamente sì, quindi se vieni con me andiamo a vedere qualcosa. Bene. Partiamo con gli sconti. Oltre il 30% per acquistare comunque una Fiat a chilometri zero, una Fiat, una Lancia, un Abarth. Quindi veniteci a trovare perché il risparmio è notevole. Oltre naturalmente ad avere in omaggio la macchinetta del caffè, abbiamo delle fantastiche 500L sia gasolio sia benzina all'estimento Popstar con un listino che va oltre i 23.000 euro. La potrete portare via qui in progetto di corso Unione Sovietica 141 barra A a 16.900 euro. Continuiamo la carrellata, abbiamo anche dei fantastici Fiat Cubo sia benzina che gasolio. Il risparmio qui è di oltre 4.500 euro, quindi lo potrete portare via a 14.900 euro chilometri zero all'estimento dinamiche. Continuiamo con la 500L, qui vediamo un grigio moda, quindi un grigio scuro metallizzato all'estimento Popstar. Abbiamo le tipo, tipo abbiamo sia il quattro porte, sia il cinque porte che lo station wagon. Qui vendiamo una fantastica cinque porte all'estimento Easy GPL, quindi 1.400 turbo, 120 CV GPL, quindi con 20 euro si fanno oltre 400 chilometri con un motore veramente unico ed esclusivo. La nostra richiesta è sotto i 16.500 euro. 500, 1.200 benzina, chilometri zero, pensate, con anticipo zero la potrete portare via con 197 euro al mese. Naturalmente, anticipo zero, voi venite qui, ci date la busta paga, i documenti, noi vi diamo la macchinetta del caffè e l'automobile e tra un mese comincerete a pagare 197 euro al mese per questa fantastica 500 1.269 CV Lange. Continuiamo, abbiamo delle fantastiche punto 1.269 CV 5 porte street, pensate, il risparmio qui va quasi al 45% chilometri zero, quindi vettura che è sotto i 10.000 euro. Continuiamo con delle Panda, Panda 1.200 Easy a partire da 8.900 euro con climatizzatore, radio CD MP3, vetri elettrici, chiusura centralizzata, ABS, full, full, full. Continuiamo la carrellata, quindi vediamo un'altra fantastica Panda 1.269 CV Easy, anche qui a partire da 8.900 euro. Fantastica Toyota Auris Ibrida, quindi 1.800 benzina con anche l'alimentazione elettrica, quindi vettura veramente fantastica, pensate che fino a 50 all'ora non la sentite neanche in moto sostanzialmente. Questa vettura è una vettura che supera i 30.000 euro di listino, ha un anno di vita, 30.000 chilometri naturalmente, euro 6, quindi il blocco del traffico qui è pari a zero. Qui, nonostante sia una vettura usata, avete ancora 1.500 euro per la vostra vettura da rottamare, la potrete portare via a 16.900 euro, garanzia Toyota fino al 2021. Ultimi due rimasti, Range Rover Evoque, Dynamic 180 CV, quattro ruote motrici. Pensate, vettura che è nuova supera i 62.000 euro, qui da noi la potrete portare via con il 20% di sconto, vettura nuova solo immatricolata, ripeto 20% di sconto. Ne sono rimaste due, bianche con il tetto nero. Bene, invitanti davvero queste promozioni appetitose anche nel mondo dell'usato, delle chilometri zero, delle vetture aziendali, c'è un'ampia scelta anche per quanto riguarda il nuovo. Vi ricordo che naturalmente sull'acquisto del nuovo c'è anche la macchinetta del caffè, che fa un caffè buonissimo. Detto questo, concludiamo ricordando anche i servizi di questa grande concessionaria che si trova in corso Unione Sovietica 141. Esatto, quindi è una concessionaria a 360 gradi per gli automobilisti, quindi a parte la vendita abbiamo l'assistenza, quindi assistenza totale, vettura di cortesia, noleggio, assicurazioni, garanzie, carrozzeria, magazzino di cambi. Abbiamo tutto quello che occorre all'automobilistia e anche qualcosina di più, perché comunque siamo con dei professionisti veramente unici ed esclusivi, volti a dare la soddisfazione massima al cliente. Ricordo che la macchietta del caffè, scusa se ti faccio un appunto, la regaliamo a tutti i clienti che acquistano una macchina, indipendentemente che sia nuova, usata, indipendentemente. Quindi veniteci a trovare perché essendo Natale, il regalo di Natale ci teniamo a farvelo. Bene, il regalo allora è valido per tutti, sia per quanto riguarda l'usato che per quanto riguarda il nuovo. Detto questo io ti ringrazio e tante buone feste. Grazie a te Sonia, tanti auguri, auguri a tutti, buon Natale e buone feste, vi aspettiamo numerosi.